La pazienza può far germogliare delle pietre a condizioni di saper aspettare. Questo è il motto dell'azienda della tenuta fontana. Sono in compagnia di Maria Pia, ci racconti un po' la storia di questa azienda che ha dei vigniti storici? Allora, tutto nasce da una semplice tradizione praticamente contadina, perché dalla fine del 1800 i miei trisnonni acquisirono questo vigneto, è il vigneto dell'Asprinio. È un vigneto autoctono, quindi la particolarità di questo vigneto è che è un'alberata, quindi ha una spalliera alta, ha l'altezza di 9 metri e attualmente i miei nonni continuano a salire su questa alberata per raccogliere a mano l'uva dell'Asprinio. Noi siamo praticamente a Piedrelcina, noi abbiamo praticamente vigneti sparsi, tra cui questa è la bella alberata, poi siamo noti comunque per l'Aianico, zona quindi beneventana e poi zona anche sul Falerno del Massico e Primitivo e racchiudiamo un po' tutti quelli che sono i prodotti della campagna, semplicemente. Io so che avete preso in mano l'azienda, tu e tuo fratello Antonio. Come mai due ragazzi così giovani hanno deciso di intraprendere questo tipo di attività? Ma no, è semplice, un po' perché è un progetto, è una semplice idea, è un semplice richiamo alla tradizione, quindi noi viviamo di ricordi e quindi quei ricordi abbiamo fatto sì che in realtà diventassero noti a tutti. Quindi dal ricordo che io per esempio vedevo nonno salire sulla scala e quello stesso ricordo che io porto comunque con me dietro è quello che cerco un po' di far capire anche agli altri, quindi a chiunque questo sia e poi ecco di farlo comunque lo si vive nel prodotto stesso, quindi nel vino. Quali sono le caratteristiche principali dei vostri vini? Vabbè, allora l'Asprigno non è un vino che è noto a tutti, quindi nasce con una tipologia comunque diversa di vino e di uva. Però ecco, il dispiacere è che proprio perché non è noto io ho puntato su questo, quindi a far sì che come tutti gli altri tipi di uve, quindi Aglianico, Fiano, Falerno eccetera eccetera, di farlo comunque conoscere anche questo. L'Aglianico, vabbè, il nostro è un Aglianico comunque nato nel 2014, quindi è un vino molto giovane allo stesso tempo e poi vabbè c'è il richiamo al Falerno del Massico, che il Falerno del Massico è considerato comunque uno dei vini, cioè il vino più antico del mondo. I romani producevano il Falerno e così via, quindi ci stiamo studiando, ci stiamo impegnando e stiamo facendo il modo di farci spazio anche noi che comunque siamo giovani. Io ho 24, mio fratello ho 19 e stiamo andando avanti così. Al prossimo episodio Al prossimo episodio